Lanciano, VII secolo. Un monaco dubita della presenza reale di Gesù nell'ostia e nel vino mentre celebra la messa. Alla consacrazione l'ostia si trasforma in un pezzo di carne e il vino in sangue e coagula in cinque grumi, il più antico miracolo eucaristico della storia. Ferrara, 1171. Durante la messa di Pasqua l'ostia consacrata diventa carne da cui sgorga un fiotto di sangue che macchia la volta sopra l'altare. Volsena, 1263. Durante la messa l'ostia inizia a sanguinare. Impaurito, il sacerdote la avvolge nel corporale di lino e fugge verso la sacrestia. Lungo il tragitto alcune gocce cadono sul pavimento e sui gradini dell'altare. 22 miracoli eucaristici accertati solo in Italia. Negli ultimi 25 anni episodi straordinari sono accaduti a Buenos Aires in Argentina e a Legnica, in Polonia. L'ultimo segno sarebbe avvenuto nella regione cristiana del Kerala, nel sud dell'India. Il 15 novembre 2013, sull'ostia appena consacrata, compare una macchia che col passare dei minuti prende la forma del santo volto di Gesù. Lo scorso 11 gennaio l'ostia è stata inviata in Vaticano per capire se ci troviamo di fronte a uno degli innumerevoli miracoli eucaristici, testimonianza della presenza di Cristo nell'Eucarestia. Quella particola, lo avete sentito, dall'11 gennaio è in Vaticano. Professor Carlo Iovine, perito ufficiale della congregazione della Cauda dei Santi. Allora, devo dire, prof, che tra le nuove e anche direttive aziendali, devo dire, che sono appena arrivate, tra l'altro ieri ci sono state comunicate, questo contatto, come dire, viene sconsigliato. Però, professore, è un bacettino, se può dare ogni tanto, speriamo, però cambieremo anche noi. L'uomo di scienza, che è quello che deve, come al solito, quando lei si siede di fronte a tutto questo, come al solito, noi lo diciamo, ce lo chiediamo sempre, qualche domanda se la deve necessariamente porre. Perché, professore, quando però poi farina e acqua diventano muscolo cardiaco, penso da Lanciano in poi. Beh, e allora, aspetta lei a spiegarci qualcosa. Sì. Diciamo che fenomeni di questo tipo sono descritti negli anni dal Medioevo in poi, anche prima. E solo adesso, però, la scienza, con i suoi mezzi, riesce a capire di che cosa si tratta. Nel miracolo di Lanciano, la cosa incredibile è che la carne, che poi fu data dal vescovo nel 1971 ad esaminare, non era mommificata. La carne, lei ha detto. Parliamo quindi di quell'ossia diventata carne. non era mommificata. Cioè era fresca. Era fresca, praticamente. Quindi, ed è stata data, praticamente, il risultato è stato che era muscolo striato, cardiaco. Non solo, ma l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, pochi anni dopo, due anni dopo, ha fatto 500 analisi su quella, su quella pezzo di carne e ha dovuto confermare quanto era stato già visto dal professor Linoli, mi pare, in Abruzzo. Senta, professore, la scienza cosa dice? Come spiega? Sì. Che cosa, come fa a spiegare a una persona? Guarda, c'è un'ostia che è diventata carne viva. Tra l'altro ricordo che il miracolo di Lanciano stia parlando del Settecento. Sì. E quindi, e poi dopo ci sono avuti secoli e secoli. Poi io vorrei parlare di quello di Buenos Aires, che è molto interessante. Ancora meglio, allora andiamoci. Perché quello di Buenos Aires, chi è stato poi a, diciamo così, inoltrare il tutto agli organi competenti per le ricerche, sia a Sydney che alla Columbia University, è stato il Cardinale Bergoglio, che oggi è l'attuale Papa Francesco. Cosa successe a Buenos Aires? E beh, a Buenos Aires è successo che ci fu una trasformazione dell'allostia consacrata per chi crede contiene il sangue e il corpo di Cristo. E questo è il punto fondamentale. Questa comparsa di carne e di sangue implica che Cristo è sempre presente nella nostra vita. Il sangue che è caduto dalla croce è stato il sangue che è servito a purificare la terra e cercare di redimere gli uomini, per chi crede. È chiaro. Ma in questo caso vorrei dire, leggere proprio due righe, che è la perizia fatta sull'ostia trasformata in carne, muscolo striato e quindi muscolo cardiaco, alla Columbia University, che è l'università americana più importante, dove il professor Zugibe disse Le analisi mostrano tessuto miocardico e globuli bianchi intatti, che non possono essere presenti nel tessuto cardiaco di un cadavere. Dio mio. Sempre il professor Zugibe dice Sono sbalordito. Come avete fatto ad estrarre da una persona un pezzo di cuore vivente? Dio mio. Perché è una cosa incredibile. Dio mio. E qui la fede, come ha detto giustamente lei, per chi crede è quasi una conferma. Ma questa è una cosa, anzi, che secondo me è anche diffusa nel pubblico molto poco, perché voglio dire, una cosa di questa entità, di questo livello, dovrebbe essere a conoscenza proprio di tutto il mondo, perché è una cosa incredibile. Senta, professore, ma in quel caso, usando proprio le parole del perito, che lei ci ha appena letto, un perito può ammettere che si tratti di un miracolo? No, il perito dice che è una cosa incredibile. A parte che lui non sapeva la provenienza. Ah, ecco. Questo è importante, che non sapeva la provenienza. Quindi dice, come avete fatto? Da chi l'avete tolto? Perché questo è un pezzo di carne che è stato tolto da poco. Capito? Invece era stato tolto da un anno e mezzo, cioè voglio dire. Quindi, non sapendo la provenienza, è ancora più strana tutta la cosa. Quindi, voglio dire, la scienza, di fronte a episodi del genere, dice, sono episodi non... Interrogo l'uomo di fede. Sì. Professore, che spiegazione diamo? La minaccia di questo secolo, l'ha detto anche Papa Francesco, anche del precedente, è la secolarizzazione. E devo dire che le notizie che arrivano dai comuni della Lombardi, che sono chiusi e isolati per il coronavirus, in cui è stato detto, funerali e eventualmente, questo anche a diocese di Milano, è arrivato proprio ieri il comunicato di Monsignor Delpini, si possono celebrare matrimoni, funerali, ma con un numero minimo di persone, quelle siete vicine. Vedere per la prima volta chiese non completamente abitabili, tra virgolette, ci sta ponendo di fronte a tante domande. Ma la presenza di carne in quell'ostia e il fatto che Dio si accanisca a stare in mezzo a noi, all'uomo di fede, che idea suggerisce? Due cose. Prima di tutto suggerisce che l'uomo è un uomo che ha molta supponenza, molto iperorgoglio, non sa più piegare le ginocchia nella preghiera, pensa solo al dare e all'avere, e quando accadono queste cose poi riscopre i sentimenti religiosi, riscopre che invece il rapporto deve essere quotidiano, costante deve essere, come dice Papa Francesco, un esempio di vita di tutti i giorni. Ogni giorno noi dobbiamo testimoniare il Vangelo per chi crede, ma anche per chi non crede. Voglio dire, chi non crede deve avere una sua etica, una sua morale che lo porta al rispetto dell'altro e quindi a vivere una vita che sia in sintonia con gli altri, con il mondo. Voglio dire, è assurdo che a febbraio ci sia questa temperatura, è assurdo che al Polo Sud ci siano 23 gradi, cioè voglio dire, c'è qualcosa che non sta andando. Noi ne dobbiamo prendere coscienza di tutto questo. Al di là degli allarbismi rispetto alla situazione che, secondo me, andrà sotto controllo, anche perché qui allo Spallanzani hanno usato sui pazienti cinesi, soprattutto hanno usato già degli antivirali che hanno riscosso un risultato ottimo, perché lui è guarito e la signora pure, si può dire. Per cui voglio dire, la scienza va avanti, però la scienza risolve il problema contingente. Ci vuole poi la scienza dell'anima che deve farci vivere bene in sintonia con il mondo. Senta professore, che pensieri si fanno quando ci si trova di fronte, ripeto, da una particola a un pezzo di cuore? C'è uno sbalordimento completo. Intanto anche a Legnica, l'ultimo che c'è stato il 25 dicembre in Polonia, nel 25 dicembre del 2013. Anche lì la stessa cosa, poi un'altra cosa particolare è che il sangue è sempre di gruppo AB, come il sangue trovato nella sindone, come lo stesso gruppo. AB vuol dire ricevitore universale. Io pensavo tra me, forse sarebbe stato più logico donatore universale, invece no, ricevitore universale, perché quel sangue ha ricevuto il dolore, le sofferenze di tutti gli uomini, di tutto il mondo. E quindi, e poi ha penetrato la terra, ha penetrato il mondo, dando la speranza della vita. E questo è importante. Professore, io non so come ringraziarla.